Il prodotto che ci tengo a sottolineare è la qualità del Made in Italy e la ricerca del design che ormai si è perduta nel nostro Made in Italy che è tutto in portazione e invece ci sono tanti creativi e disegnatori che hanno da dare alla donna che intende ancora vestire in un certo modo. Questo è l'esempio di un capo che è curato sia nell'interno che nell'esterno, è tutta una miscela di patchwork di tessuti esclusivamente italiani e questi sono per noi capolavori, non un semplice abito che poi si può abbinare a un pantalone slim, un abitino sempre patchwork coordinato, ma facciamo anche dei capi più avanti trend sportivi che può essere un neopreme di 100% viscosa, una maglia innovativa con la manica pagoda, uno stile anche più trash, non solo elegante. Equivalente è la maglia a scatola che è fatta di viscosa tutta a taglio vivo con le maniche così in lana. Un'altra novità che ho ideato io è l'anella con le maniche che adesso è fatica da vedere sull'attaccapanno, però quando si usciva la sera si aveva sempre freddo alle braccia e gli ho aggiunto le maniche e di conseguenza è diventato il nostro best seller aziendale.